Ma chi lo ha detto che il calcio italiano non sforna più talenti? Basterebbe dare un'occhiata veloce in Serie C per accorgersi che anche a queste latitudini sbocciano e come talenti. Alberto De Francesco da Roma è uno dei pezzi pregiati del Made in Italy e il simbolo del nuovo che avanza. Il gol realizzato a Brindisi contro la Virtus Franca Villa è destinato a fare il giro del web e uno spot per il campionato di terza serie. Adesso anche le grandi impareranno a conoscere meglio questo numero 10 dalla classe purissima Cristallina. Arrivò a Reggio Calabria l'estate scorsa grazie all'intuizione geniale dell'ex direttore Martino. Maurizzi ne ha fatto un leader mettendolo al centro del suo progetto. La fascia di capitano lo ha responsabilizzato adesso De Francesco, 23 anni ancora da compiere e un giocatore completo, un trascinatore. E non è un caso che sul neutro di Brindisi sia proprio De Francesco a suonare la sveglia e a regalare alla regina un punto pesantissimo, un punto che vale il quinto risultato utile consecutivo. La striscia positiva degli Amaranto non si ferma neanche al cospetto di un ottimo Franca Villa. La squadra di D'Agostino ha voglia di recitare un ruolo da protagonista in questo campionato e dopo il blitz di Rende si presenta all'appuntamento con l'entusiasmo tipico delle squadre di provincia. La regina stenta ad entrare in partita e soffre la maggiore aggressività dei biancazzurri. Il 4-3-1-2 disegnato da Maurizzi fatica ad accendersi, l'unico a tenere il ritmo degli avversari è il giovane Marino che dopo il gol di Fondi si guadagna una maglia da titolare. È l'unica novità rispetto alla scorsa settimana, il resto è tutto confermato, persino i disagi iniziali. Sì perché la regina, pur concedendo meno rispetto a Fondi, subisce l'iniziativa della Virtus che, pronti via, sfiora subito il gol con questo sinistro di madonia. La regina non si scuote dal torpore e al minuto 18 rischia ancora, ci pensa tuttavia di Filippo a murare così, la conclusione ravvicinata di uno scatenato Saraniti. Per l'ex attaccante della Vibonese, però, l'appuntamento con il gol è soltanto rimandato, se è vero come è vero, che al minuto 34 il gigante Biancazzurro estrae dal cilindro un destro di rara bellezza che beffa così un cucchietti, non certo irreprensibile nell'occasione. La regina prova ad abbozzare una reazione, ma la manovra non è più fluida come sempre, e davanti le assenze di Bianchimano e Tulissi iniziano a farsi sentire. Servirebbe un episodio per tornare in partita, e l'episodio si materializza all'alba del secondo tempo, quando De Francesco sfrutta alla perfezione una giocata di sciamanna, e senza pensarci su, disegna una traiettoria che non lascia scampo al portiere Biancazzurro, per il capitano e il primo gol in questo campionato. La Virtus accuse il colpo e perde in sicurezza, adesso è la regina a fare la partita. Gli Amaranto tuttavia non danno mai la sensazione di voler affondare il colpo, intanto la gara si incattivisce e così Maurizzi decide di coprirsi fuori una punta a sparacello dentro un centrocampista fortunato. Il segnale è chiaro, meglio non rischiare, e così il finale regala poco in termini di emozioni con le squadre impegnate più a darsele di santa ragione che a provare a superarsi. La regina si adegua e si porta a casa un pareggio che proietta Gli Amaranto in sesta posizione, in piena zona playoff. Forse è ancora prematuro guardare la classifica, ma con un De Francesco così, sognare in grande si può. Il Cosenza di Braglia, prossimo avversario del Gli Amaranto, è avvertito martedì sera nel turno infrasettimanale. Il granillo sarà una bolgia, e De Francesco è pronto a stupire ancora.